Stamattina Laura è arrivata e sembrava Full Metal Jackers. Bravi ragazzi però, devo dire la studeria è in ordine, bravi, sono contenta. Abbiamo fatto lezione fuori perché era bello, poi è iniziato a piovere. Per quanto uno possa correre come una gazzella, sono arrivata in maneggio coperto e ho trompa. Camminate, se voi non fate aprire il passo, le anche non vanno, sì morbide. La cosa che mi resterà più impressa è stare attenti al dettaglio perché come dice lei il dettaglio fa la differenza. Grazie.